Alano Fulvo Alano Arlecchino Alano Blu Mastino Napoletano Bovaro del Bernese Dogo Argentino Cane di Terranova Boxer Fulvo Risen Schnauzer Nero Tosa Sharpey Schnauzer Nano Pepe Sale Nero Bulldog Inglese Bovaro del Lappenzel Pincher Bassotto Standard a pelo duro Nano a pelo liscio Caninchen a pelo corto Malamut Alaskan Malamut al quinto raggruppamento Il Siberian Aski Samoyedo La Kita Giapponese La Pinkoira Dai Ridgeback Shiba Inu Basenji Solo i Squintle Spizz Piccolo Volpino Bianco Volpino di Pomerania Carlico Tertrever Golden Retriever Springer Spaniel Inglese Cocker Americano Barbone Grande Mole Albicocca Shih Tzu Bulldog Francese Boston Terrier Pechinese Cavalier Kinga Spaniel Papillon Carlino Fulvo Con Maschera Nera Chihuahua Pelo Corto E Chihuahua Pelo Lungo Un bel applauso Tutti i soggetti Dai 9 Ai 18 Mesi di Età Il giudice Effettuerà una prima selezione E poi Inizierà A selezionarli Singolarmente Pergare Thank you Smoking Intanto invitiamo i soggetti in classe veterani che saranno giudicati da Alberto Cucillato a prepararsi nel pre-ring. I soggetti in classe veterani nel pre-ring. Grazie per la visione! I soggetti che non sono stati selezionati lasciano il ring. Gli altri selezionati restano sulla linea di partenza. Allora vediamo il giudice Rodriguez. Provede a un'altra selezione probabilmente per tenere i primi sei, dai quali poi giudicherà i primi tre che vanno sul podio. Un giro di ring tutti insieme. Tutti i soggetti tra i 9 e i 18 mesi di età. Intanto invitiamo i soggetti in classe veterani a prepararsi nel pre-ring. Ora vediamo un altro giro di ring per i soggetti a gamba più corta. Allora vediamo la selezione di Francisco Ruiz Rodriguez. Fila! Alaskan Malamut! Bassotto, Nano a pelo duro, Zwerg Schnauzzer nero, Spitz Nano. Grazie per uscire dal lato opposto. Prego, torniamo sulla linea di partenza. Ancora una chiamata per i soggetti in classe veterani. Vediamo in movimento l'Alaskan Malamut. e ora la volta del Tosa. E ora il turno dello Zwerg Schnauzzer nero. la velocità dello schnauzzer nano nero. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ora vediamo muovere il Bassotto Nano a pelo duro, Spitz Nano. e concludiamo la carrellata delle presenze nel ring dei giovani con il pechinese. Come dice lo standard, si deve muovere con l'andatura di un marinaio ubriaco. Dopodiché sarà la volta dei veterani. e dopo i veterani sarà la volta delle razze italiane, coppie e gruppi, cinque raggruppamenti e best in show finale. Bene, attenzione! Andiamo a conoscere il giudizio del giudice Francisco Ruiz Rodriguez. Eccoci qua! Eccoci qua! Secondo posto per il Tosa! Secondo posto per l'Alaskan Malamut! Tutto bene? Soddisfatto? Vince questo raggruppamento classe giovani, un raggruppamento molto ambito, numerosissimo, competitivo. e verrà premiato dal consigliere del comune di Perugia, Stefano Mignini. Prego! Benvenuto consigliere! Niente popò di meno che il pecchinese! Complimenti! Complimenti! Con questa andatura da marinaio ubriaco, lei è unico! Non vogliamo saperlo! Raggruppamento giovani, competitivo, entusiasmante, a seguire il raggruppamento veterani. Molto bene! Grazie a tutti! Grazie! Grazie!